non so come sono finito qui però oggi siamo di matrimonio amiche è vero si sposa antonio il fratello del mio amico alessandro e io mi sono ritrovato a guidare la macchina dello sposo ci ha portato la gommella e la gommella ci ha portato a gommella e la gommella ci ha portato a gommella nooo ci ha portato a gommella e la gommella insomma siamo qui però stiamo bene è vero Miche? si Miche rispondi ma te è vero? stiamo bene Miche o no? e Paola noi tra sei ci siamo anche chiedi capisci a me che mi sta ciao ed ecco che arriva pure Filippo avanti un altro ah ma che ciao 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 non ci muoviamo più e la macchina non mi mangiare più oggi senti dai boss dammi uno spazio del boss a me non mi mangiare una cosa ha detto Paola dobbiamo mangiare una cosa dice Paola io? io sento il temperamento mio il temperamento forte mio mi permette di mangiare un che solo un biscotto non mangio più quindi è meglio se non mangio nulla mi spezza la mangiata che però significa mi spezza l'appetito quando arrivo lì? nooo ciò che voglio portalo la busta ti quello che voglio mangerò con calma no 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 la busta a casa non la porto mi mette andò e ho fatto il Capayet che c'ho che resta Quello che resta Non si mette nella busta Non si mette nei vassoi Non si mette nei vassoi Quello che rimane E domani si mangia qua Esatto, domani lo mangiamo qui E' fantastico Auguri agli sposi Vuoi fare un saluto Michele Ai nostri amici? Saluta Ciao